Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo del giorno di Parini. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come i diari di Charlotte. Nella scorsa video lezione abbiamo parlato della biografia di Parini. Ve la lascio qui per un ripasso. Oggi però parliamo del giorno, un poema in endecasillabi sciolti, incompiuto, a cui però Parini lavora per ben 40 anni. Questa composizione dunque è sofferta, è molto elaborata. Abbiamo infatti due progetti. Da una parte l'idea era quella di scrivere tre poemetti collegati, il mattino, il mezzogiorno e la sera, per criticare l'aristocrazia cittadina. Infatti la figura del precettore e del giovine signore ci fanno proprio pensare a questa critica. D'altra parte abbiamo l'idea di creare un poema organico diviso in quattro parti. Il mattino, il meriggio, il vespro e la notte. Vediamo però dal punto di vista biografico la questione. Nel 1754 Parini diventerà precettore proprio del duca Gabriel Serbelloni e quindi entrerà in contatto con questa nobiltà, questa nuova nobiltà e anche con le nuove idee degli illuministi. Nel 1762 poi però lascerà a casa Serbelloni e diventerà precettore, quindi maestro, insegnante privato nel figlio di Carlo Imbolati, al cui padre peraltro dedicherà un ode, l'educazione. Nel 1763 Parini pubblica il mattino, la prima parte del giorno. Due anni dopo pubblicherà il mezzogiorno, che però verrà criticato per quell'uso dell'ironia troppo velato secondo Pietro Verri. I due poemetti sono molto significativi perché ritraggono i vizi della nobiltà. Il mattino è preceduto da una dedica, una dedica alla moda. Infatti Parini dichiara che la moda è la dea che ha sconfitto la ragione, il buonsenso e l'ordine. Chi sono i protagonisti del giorno? Il precettore d'amabil rito, quindi l'educatore al piacere e al divertimento. E il giovin signore, che è il dedicatario dell'opera, un giovane nobile detito all'ozio ed estraneo agli studi e alle occupazioni. Il giovin signore è un protagonista di cui non conosciamo il nome. Infatti lo chiamiamo il giovane signore, quindi non ha una identità precisa. È una maschera vuota ed è ridotto proprio alla sua esteriorità, cioè al suo titolo, alla sua classe nobiliare, quello di essere un ricco ozioso. In realtà il vero protagonista dell'opera è il precettore narratore, probabilmente alter ego, potremmo dire doppio, di Parini. Il precettore vorrebbe insegnare al nobile signore come ingannare i noiosi e lenti giorni della vita. Il poema si intitola Il giorno e si apre sull'alba, quando il giovin signore va a dormire stanco del teatro e del gioco. Il precettore quindi gioca con l'ironia e presenta questo nobile in modo malizioso, quindi ironizza addirittura sui massacri di Cortese e di Pisarro, quindi dei conquistadores, poiché nuove cose venner delizie o gemma degli eroi al tuo palato, perché il giovin signore ha questa colazione succulenta, piena di prelibatezze e anche di cioccolata. Il giovin signore, come i cavalieri serventi, va poi, dopo essersi coricato all'alba, per l'appunto perché ha passato la notte a gozzo vegliare, esce con la sua dama, la dama che ricorda la sua cagnetta. E qui abbiamo un altro episodio che leggeremo insieme, Celeberrimo, quello della Vergine Cuccia, nel quale l'attenzione alla povera cagnolina di questa dama è maggiore rispetto ai poveri servitori e alle famiglie ridotte in povertà, perché sono state licenziate a causa di un calcio dato a questa bestiolina. Dopo il 1765 però Parini riorganizzerà il progetto che suddivide in quattro parti. Il progetto originale da Il mattino, il mezzogiorno e la sera va, come dicevamo, al nuovo poema Il mattino, il meriggio, il vespro e la notte. Parini quindi rivede i due poemetti più antichi, nel mattino aggiunge l'episodio per esempio della Galleria degli Avi in cui mette in evidenza la decadenza della nobiltà e cambia il titolo del mezzogiorno secondo un gusto neoclassico. A proposito del neoclassicismo vi lascio qui una video lezione. Quindi dopo il mattino e dopo il meriggio, quindi il nuovo titolo del mezzogiorno, abbiamo il vespro che riprende proprio la conclusione del mezzogiorno e una parte incompiuta occupata dalla passeggiata in carrozza del giovin signore e della sua dama. Tuttavia questa passeggiata in carrozza viene interrotta da alcune visite, come quella ad una nobile che ha partorito il suo primo genito, cantato da numerosi poetastri. Nell'ultima parte del giorno, quindi la notte, Parini paragonerà la notte dei nobili di un tempo, quindi stanchi per le imprese quotidiane, ai bagordi dei nobili contemporanei. Il giovin signore e la dama vanno a un grande ricevimento che si trasforma in una rassegna di imbecilli. Quindi questa è l'idea della nobiltà che traspare dalle parole di Parini e anche del precettore. In questa opera troviamo numerose favole mitologiche al gusto del neoclassicismo, quindi di un classicismo rinnovato, di un nuovo classicismo. Queste favole mitologiche, come per esempio la favola della Cipria, vengono inserite per bravura anche letteraria, quindi innanzano lo stile. Abbiamo anche la favola del piacere, dove Parini affronta la divisione delle classi sociali e la disuguaglianza. Per quanto riguarda la metrica, all'inizio del video vi ho detto che è in Endecassilabi sciolti. Questo è un metro molto in voga, molto moderno, per quanto riguarda il Settecento. E dato che quest'opera è un'opera alla moda, cioè perché la moda ha, possiamo dire, tolto e ha corrotto la società, come ci dice nella Dedica, lo stesso Parini, allora anche il metro deve essere adatto all'epoca moderna in cui si trova. Lo stile è estremamente raffinato, fondato su inversioni, anastrofi, iperbati, forme letterarie preziose, costruzioni anche sintattiche ardue e un largo uso delle figure retoriche. Ci vediamo con la prima lettura dedicata al giorno e quindi al risveglio del Giovin Signore. Grazie a tutti.